ecco gli ingredienti per la nostra torta all'acqua al cioccolato allora ci vorranno 275 grammi di farina io sto usando una farina integrale di grano ma voi utilizzate la farina che preferite 380 grammi di acqua 140 grammi di olio di semi 250 grammi di zucchero io uso lo zucchero integrale di canna voi utilizzate lo zucchero che preferite 130 grammi di cioccolato fondente tritato finemente e una postina di lievito per dolci questi sono gli ingredienti procediamo con la preparazione come prima cosa bisogna far riscaldare l'acqua a fuoco dolce una volta che l'acqua si sarà scaldata insieme ad aggiungere lo zucchero una volta sciolto il zucchero aggiungiamo il nostro cioccolato fondente e continuiamo a mescolare con una fusta a mano evitando per far sì che non si creino i grumi una volta mescolato bene anche il cioccolato fondente spegniamo il fuoco e lasciamo riposare quindi raffreddare per qualche minuto questo composto liquido una volta raffreddato il composto mescoliamo con una fusta elettrica ora lentamente incorporiamo anche la farina e frulliamo aggiungiamo l'olio continuiamo a frullare e infine aggiungiamo il lievito per dolci la bustina una volta ottenuto questo bel composto liscio ed omogeneo andiamo a versarlo nella nella teglia che ho precedentemente ho rivestito un carta forno una volta versato il composto nella tortiera possiamo andare ad infornare o in forno statico preriscaldato a 180 gradi per 50 minuti oppure in forno ventilato a 160 gradi per 40 minuti eccola qui la mia torta al cioccolato all'acqua è pronta dopo essere stata in forno per 40 minuti in forno ventilato a 160 gradi l'ho lasciata poi raffreddare ci ho spolverato su delle della farina di cocco delle scagliette di cocco e per non mettere lo zucchero a velo e niente vi assicuro che è deliziosa vi consiglio di provarla io spero che questa ricettina vi sia piaciuta vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima ricetta ciao